Anche noi potremmo fare lo stesso errore di Zaccaria, voler essere sicuri di ciò che Dio ci chiede di fare. Questa sicurezza non è una cosa cattiva, ma lascia emergere un problema insito nel proprio cuore, perché cancella la fede della persona, il fidarsi ciecamente di Dio amore e credere solo in Lui. Quando la curiosità rischia di farci perdere nei nostri ragionamenti e calcoli, allora è dannosa. Impegniamoci oggi a vivere la nostra giornata nella fiducia in Dio, sapendo che ciò che Egli ci offre è la miglior cosa di cui la nostra anima abbia bisogno. E ricordiamoci anche di curiosare il meno possibile sugli affari degli altri. Ti piace parlare degli altri curiosando sulle cose che non ti riguardano? Come pensi di accrescere la tua fiducia in Dio e nella della sua parola? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.